Dove siete? Io sono egiziano Egiziano Cairo Chakir Barocco Egitto Egitto Assio Egiziano Emenopeia Palestina Barocco Casa Blanca Chakir Barocco Con le donne, le maestri, le arabe e le levi Uno, due, tre Ehi, ehi, ehi Sono andato in guerra e non mi salva nessuno Sei, 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 sei Per ogni volta che ho pregato nel buio Ehi, ehi, ehi E non credo più ormai sono credo Io sto facendo l'apertura ma dopo ci sono due artisti pazzeschi Veramente Tanora di nansi adramo Ah, èssa cominci Eh, uo Noglu e le mattine E le mattine E le mattine E le mattine Azzurro dì Azzurro dì Azzurro dì Ho giro il dìr, ho giro il dìr Ho giro il dìr, ho giro il dìr Ho giro il dìr Il giro il bambino e il bambino Ho giro il dì, ho giro il dì, ho giro il dì Non si sono librore il dì, ho giro il dì Nazzera hait, oghamze hait, qual'ha il webbittet mit me E'n assi inni b'gharbi, jinn khusus, se lo t'ha kudha gheni Enta t'okkur ni b'hanni Diop a' kallbak m'n'na E'n assi inni b'gharbi, jinn khusus E'n assi inni b'gharbi, t'ha kudha gheni E'n assi inni b'hanni Grazie a tutti